erano secoli che non vedevo Matteo come va? tutto bene colore della spiritualità aspetta Giammarila Giammarila grazie per tutti i campi e la contraria l'abbiamo avuta oggi e non c'erano alcune guarda guardate ci provano appunto ci riesce allora riuscivo guarda il bagno guarda 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 librat Grazie a tutti! 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 a tutti! Grazie 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 a tutti! a tutti! Grazie 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 a tutti! a tutti! Grazie a tutti! 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 bravo! a tutti! 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 a tutti!